ciao siamo a sant morizio sole tutto bene e adesso andiamo in farmacia poi facciamo una passeggiata qua ci sono tutti i macchinoni grandi bello bello santo regola una bella Bentley Continental Monte Carlo firmata veramente bello tutta crata e celi con la chiesa oggi si va a cena in questo ristorante quassù chiamato la stalla quindi mi aspetto le mucche stalla 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 e quello la scena se no magari lo metto in video c'è il quadrante dell'orologio del campanile molto molto bello ma veramente bello quindi si va Rolex e tutto macchinoni bene eccoci qua siamo arrivati in ferro farmacia e adesso entriamo in apoteche ottimo appena usciti dall'apoteca e dove si va adesso dove dove andiamo qua giù ma andiamo che siamo già qua su in monte ottimo direi proprio bella san morizio proprio bella bello 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 veramente bello ora che bello laggiù che c'è c'è la roba guarda che bello laggiù papà la benerima della fontaine e vedete laggiù la fontaine memorial bella mannaggia è la maserata che bella che è bella bella macchina bella macchina questa è la quattro porte così chiamata molto bella anzi no scusate gran coupè questa è l'altra invece la il suv cosiddetto suv come si chiama? bella no ghibli questa è la la levante è chiuso? bello bello chiuso secondo me perfetto però la maserati prossima volta dai prossima volta che si torna qua qua a porto ogni secondo sono a porto bello molto bello oh yeah veramente bello tutto neve solo neve 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 poi tutto bello tutto bianco bello 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 e poi adesso qua della regia mi dicono che c'è volo i cavalli con la carrozza davvero belli cavallucci cavalli cavallucci ottima cosa è veramente bello 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 ci sta ciao tutto bello qua e questa qui è la strada principale pedonabile invece c'è una macchina e ci sono dei bellissimi orologi qui dentro qua la mossa 25.000 euro questo qui da 25.000 euro anzi scusate franchi franchi quindi no no vabbè non sono 25.000 euro tanti negozietti l'orologio di cui vi parlavo tante belle cose qui c'è un hotel quattro stelle e qui Rolex tantissimi bei orologi bello questo nero tipo James Bond tutto per gente molto benestante qua tutte cose molto 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 care ma vera tutte care tra Bogner Rolex Maserati adesso ho mostrato un'altra roba che vedrete anzi è già nel video prima però ci sta da mostrarvelo ci sta ci sta mi vado lì dalla macchina va bene ecco adesso vi mostro una cosa bella questa qui diciamo è la cosiddetta piazza principale più o meno insomma più o meno si chiamasi così laggiù sono due belle belle sculture di ghiaccio però noi non andiamo là ma insieme andiamo bello qua dritti dove c'è anche il carattere se qualcuno l'ha notato e c'è una bellissima scultura tutta in ghiaccio ma proprio tutta in ghiaccio ice non so cosa veramente bellissimo ghiaccio con dentro la lucettina e di notte è veramente bello molto bello ci deve starci una bellissima lambo una lamborghini così io e lei quanto c'è di di altezza è bella molto bella devo dire anche dentro è molto bella eh sì bella macchina prese per l'aria spoiler mamma mia che figata mamma mia lamborghini tutto italiano mentre una cosa bella bella macchina bella bella no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.